Beh, quest'oggi ricominciamo. Il gioco è uscito ormai da quasi un anno, ottobre 2016, novembre 2016 se non sbaglio, e quindi oggi è tempo di concludere quello che abbiamo iniziato, almeno di riprenderlo, concludere, non esageriamo nel concluderlo perché concluderlo ci vuole ancora un bel po', però continuiamo. Ecco, è giunto il tempo di continuare questa serie, quindi andiamo. Andiamo. Allora, eccoci qua. Se vedete che io guardo in basso così, in questo modo, è perché Nintendo è qua sotto, però scusate, insomma, avete capito no? Mi scuso per la qualità del video, perché non è altissima, perché, insomma, capite bene, registrare con un telefono, uno schermo di un Nintendo 3DS, non è che sia proprio il top con la qualità. Cioè, siccome per registrare, diciamo, lo schermo bene, serve il dispositivo... Passiamo a stocarsi, voluto. Grazie. Troppo basso, però. Ok? Dico, quindi, per registrare il dispositivo, serve il Game Capture già integrato nel DS, quindi, capite bene che è un po' difficile averlo. Troppo alto volume. Ok, io credo di averlo abbassato. Beh, direi di continuare. Per il Prato Melemele, una distesa fiorita dove danzano gli Oricorio. Spero si veda bene, ve lo auguro. Comunque, eravamo qui... Intanto vediamo il party, qual è la squadra, perché qui... Insomma, capite bene che non mi ricordo manco chi avevo catturato. Ok, abbiamo Trambic al 16, Torregat al 18, Grabbina al 15, Crabrawler al 13, Spiro al 12, Oricorio al 10. Vabbè, Spiro e Oricorio praticamente non contano, perché non li voglio tenere in squadra. Non mi ricordo se stavamo scendendo o salendo. Ok, stavamo scendendo, quanto mi ricordo. No, no, no. Cominciamo bene. Subito il primo selvatico, così, senza volerlo. Appare raffletto, vabbè. Avanti, Trambic! Ok, abbiamo Trambic. Vabbè, vediamo, giusto per rinfrescarci un po' la memoria. Spennata! Trambic, usa Spennata! Vabbè, in quale è importante, ho detto che usavo le voci. Attacco d'ala, ammazza, uff. Hai capito, Raffet. Raffet, sì, ce l'ho. Usiamo... E che è già voce? Ok. Meno male, pensavo che non morisse, invece è morto. Malmente. 108 punti di esperienza, vabbè. Grabbrawler al 16, ok. Oricorio al livello 11, giustamente, con tutti quanti, perfetto. Un attimo. Calmi tutti, mappa. Mappa. Festiplazza, cosa cazzo è sta cosa? Io non mi ricordo niente. Non mi ricordo niente. Zero totale. Dov'è la mia mappa? È il Pokédex. Non c'entra niente in Pokédex. No, ho sbagliato. Borsa. Ah, ecco qua. Passaporto, Pokédex. No, non è qua. Cosa si fa per occupante? Allora, eh... Rototò, finalmente è ora di sfidare Hala. Presto, torniamo a Livi. Ah, ecco. Ma porca miseria, mi devo spostare da qui. Perché sono ancora fermo, cavolo? Mi cadono rafflette di sopra e basta. Anche se danno un po' di esperienza, quindi conviene forse sconfiggere. Alla fine un po' di detenamento non fa mai male. Quindi, abbuttiamo giù tanto... Anche questo, giusto perché stiamo pure salendo con Trambic. Quindi un po' di lotte interluttive. Quindi dobbiamo sfidare Hala, ecco. Non me lo ricordavo, non me lo ricordavo. Ah, sì, abbiamo appena... Ah, beh, che potevo benissimo vedermi la fine dell'ultimo episodio che ho fatto. Però, siccome io sono molto organizzato, vado così, a naso. Ad orecchio, sì. Ma non è che c'è Rotom, ma che ci ricorda un po' il nostro da farsi. Quindi torniamo a... Non ricordo manco il nome della città. Torniamo da Hala a Lili. Ok, si chiama Lili, cittadino. C'è qualcosa qua? Trovo una piuma bella. Va bene. Io voglio soltanto... Ok, vabbè, qui... Ah, siamo usciti dalla... Sì, dalla... Ok. Dal Prato Mele Mela. Ok, qui abbiamo salvato... Ah, sì, abbiamo salvato... Ehm... Non mi ricordo manco i nomi. Cosmog, ecco. Cioè, lo so che magari voi già avete finito Pokémon Sole, Luna e quello che è. Però... Ah, ecco, una cosa che mi sono dimenticato. Non mi spoilerate niente, perché io non so niente. Io non ho finito più il gioco. Cioè, da quando effettivamente io ho comprato il gioco e ho interrotto la serie, non l'ho più continuato. Quindi non so effettivamente la storia, cosa succede dopo. Quindi non mi dite niente nei commenti, per favore. Ora che l'ho detto, lo scriverete sicuramente. Ma io non li guarderò, perché già sono avanti. Questo chi è? Io sono l'esperto di cartell rosso, dimostro la sconfiggio tutti i... Chi manca del percorso 3? Quindi manca ancora qualcuno. Quindi non abbiamo sfidato tutti i generatori del percorso 3, ci ha detto. Quindi andiamo a vedere se c'è qualcuno che non abbiamo sfidato. Questo l'ho sfidato? Sfidato? Sì. Vediamo in quella centrale, magari. Occhio, occhio. Occhio. Oh! Ma perché non me ne ho doviglie? Perché? Ecco, voglio vedere se c'è qualcuno a sfidare. Vabbè, niente. A quanto pare no. L'ospiro o non l'ho batto? Col cavolo non l'ho batto ospiro. Scappiamo, se non ci passiamo domani. Abbiamo ancora le nostre favolose treccine, da ormai quasi un anno, praticamente. Il patino dobbiamo... Ci sarebbe più un cambio di look. Io volevo soltanto vedere se c'è qui. Piano. Qui do... Oh! Ok. Vediamo se l'ha stato in basso. No, niente. Attenzione, qui. Anche se io c'è da dire che un po' me le cerco, eh. Ok, piano. Andiamo di qua. Piano. Benissimo, ok. Sono fatto... Ok, vabbè. No, aspetta, non voglio andare di qua. Secondo me si può tornare indietro all'altro lato. Non c'è una parte che ti collega... Oh! Il ponte. Ti collega il ponte qua. Via, 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 via! Scappa! Fuggi! Fuggi! Ok. Vai! Veloce! No! Oddio! Meno male! Velo... No! Ok. Mi sono salvato all'ultimo, perfetto. Meno male! Meno male! Ok. Qui ho appartato me le mele, perfetto. Andiamo di qui. Fotte sega degli altri tenatori che rimangono. Andiamo, andiamo avanti e continuiamo poi la nostra strada. Ritorniamo dal ponte. E qui torniamo... Ah, ecco perché mancavano i... Con lo strumento giusto il mio Growlithe potrà lottare meglio. Al mio meglio. Al mio meglio. Comunque ecco perché non ci sbloccava la cosa del cartel rosso. Perché mancava Cristiano Giovane Speranza. Ha solo Growlithe, non so un altro. Lancia la sua Megaball con all'interno del suo Growlithe. Un bel Pokémon di tipo fuoco che diventerà un potentissimo Arcanine. Tranne il suo perché Cristiano non lo farà mai evolvere con la Pietra Focaia. Quindi andiamo di spennata. Giusto perché la nostra stab, ovvero del tipo uguale al tipo del Pokémon, usa Bracere. Che un po' di danno ce lo fa. Sperando che non ci scotta, meno male. Ok, altra spennata. E Growlithe ci saluta. Che bello Growlithe. 140 minuti di esperienza. Per quanto non siamo saliti sale solo quel cazzo di spiro che non ci servirà a un emerito pene. Zerza sta vita 624. Va bene. Quindi ora mi dovrebbe dare il cartel rosso, giusto? Perché questo è ancora il percorso 3. Giusto? Hai sconfitto tutti gli allenatori del percorso 3. Sai, sei come un... Sai. Sei come un vento impetuoso che scuote la calma del mio animo placido. Sei pronto per affrontarmi in una lotta sconvolgente? Iniziamo. Hai risposto molto bene. Ora lottiamo con il mio cartel rosso. Sarò per te uno stacolo invalicato. Ma che cazzo dici? Guardalo. Samuele fantallenatore. Occhi fantallenatore sono pericoloso. Rockruff. Non è che sia proprio il caso di usare Trambic. Vediamo cosa... La vedo brutta. Proviamo a usare Breccia. Levito Roccia. Quindi crea un campo di rocce che noi quando cambieremo Pokémon subiremo dei danni. Però noi con la nostra Breccia esatto super efficace lo distruggiamo senza problemi. Trambic... Ok. Finalmente Trambic al 17. Non si poteva vedere quella barra blu così piena. Ok. I punti di esperienza vengono condivisi. Nessuno sale. Slowpoke. Cambiamo Pokémon. Quindi così usiamo un po' tutti. Slowpoke ha detto quindi... Ok. Torra che non mi sembra il caso. Ricorio no. Crabbo. Proviamo Grabbin. Ma però è roccia. Grabbin è Coleottero. Allora non dovrebbe essere... Cioè non dovremmo subire molti danni perché mi sembrava... Roccia pure. Invece è Coleottero. Vabbè comunque vediamo. Come sta da qua. Ah Levito Roccia. Vero mi ero dimenticato Levito Roccia. Coleo Morso. Anzi Morso. Ah è Psico vero? Sopo che è Psico anche. Quindi con il nostro Morso manco a farlo apposta. Noi togliamo niente. Ah. Ecco cosa fa Carter Rosso. Maledetto. Cioè c'è Levito Roccia. Lo sbadiglio. Carter Rosso. Ma in questo nuovo è morto. Potere... Ok. E' giunto il momento del potere Z. Carica Travolgente. Vai. A bomba. Nei momenti di difficoltà. Il potere Z circonda Thor Racket come un'aura. Thor Racket usa una mossa Z spigionante. Non l'ho visto. Carica Travolgente. Ammazza. Perfetto. Non gli ho detto tutta una sega. Niente. Tutta sta cosa per togliere i due. Ps. Però Pistolacca non gli fa... Mi ero dimenticato lo sbadiglio. Dannazione. Stiamo perdendo troppo tempo per una... Per un pivello con un cartellino rosso. Va bene. Vediamo. Purtroppo qua subiamo. Però non tantissimo. Quindi alla fine potremmo anche resistere. Secondo me. Provo l'ultima volta. Se non si sveglia lo cambio. Ok. Svegliato. Perfetto. Leccato dovrebbe essere super efficace. Però non gli toglie una sega. Confusione. Meno male. Dai. Pure confusi. Io credo in te Thor Racket. Credo in te. Maledetta la pozione. Maledetta. E Thor Racket attacca. Sì. Proviamoci Thor Racket. Insieme ce la faremo. Ok. Perfetto. Non è più confuso. Leccata. Sì. Stava cominciando a diventare fastidioso. Io lo dico. 100 del tot punto di esperienza. Perfetto. Grappina al 16. Bene 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 bene. Cintilla. Oh cazzo. Seriamente? Potenza 65. Precisione 100. Mamma mia. Allora abbiamo presa. Fangosberla. Togliamo. Cioè tra presa. Fangosberla. Cosa dobbiamo morso. Presa. Coleo morso. Fangosberla. E morso. Direi che. Fangosberla è quello meno peggio. Direi. Cioè più. Cioè il peggiora. Quindi insomma togliamolo. Sì. Uno due. E pof. Tadam. Grappina. Grappina dimentica Fangosberla. Al suo posto. Grappina impara scintilla. Perfetto. Quindi una mossa di tipo elettro. Buono. Con i cori sono dal 12. Ma tanto non lo usiamo mai. Cioè non lo useremo. Hai scosso fino al profondo il mio animo di allenatore. Zerdas ha vinto il 952 monete. Non so come li chiamavo. Comunque chiamo monete. È stata una lotta molto gradevole. Mi sento calmo come il cielo azzurro subito dopo un uragano. Prendi questo cartel rosso. Pro del allenatore. Sarà un ricordo di questa lotta emozionante. Zerdas ottiene un cartel rosso. Ok. Zerdas mette il cartel rosso nella tasca strumenti. Chi ha cartel rosso deve far ritirare dalla lotta il pokemon che lo ha colpito. Ad Alola incontrerai altri allenatori come me. Decisi di diventare sempre più forti. Perché non li sfidi insieme alla tua squadra? Ti sto provando. Se mi lasci farlo. Ok. Torniamo finalmente in giù. Questo cartello che dice. Lili. Ok. Verso il basso. E fin qua ci arriviamo. Ok. Qua c'è una pokeball che non avevo visto perché veniamo da... Dall'altro lato. Spero che si veda comunque bene lo schermo. Mi auguro di sì. Qui c'è una specie di... Stata che ho più a rialzata. Qua c'è uno dei pokemon. Ah, c'è un... Non ho capito come si chiama. Piano. Piano. Ok. Bacca a riegia. Ora prendiamo queste bacche. Ce ne sono ancora. Potrebbe esserci un crowd brawler a difendere le bacche. Invece no. Bene, così. Meglio così. Qua c'è una pokeball. Una minor ball. Anzi. Andiamo di qua. Cerchiamo di vietare l'erbo. Ok. Qua c'è il dirupo. Qua c'è l'albero. Non ci fanno passare maledizioni. Programmatori infami. Sempre loro. Ok. Qua c'è un tizio. Anche se... Dovalliamoci. Quindi che dice. Ehi ragazzino. Tu sei di queste parti. Non è vero? Posso chiederti un favore? Va bene. Oh grazie mille. Adoro la gente di Alola. Sono tutti così gentili. Allora ti spiego. Io e la mia dolce metà. Siamo qui in una di miele. Solo che lei ha perso la testa per i rockcraft. Dice che le pietre che hanno intorno al collo e la loro coda arricciata sono davvero troppo carine. Pare che se ne vedono spesso alla collina dieci carati. Ma io non conosco bene la zona. Quindi vorrei che tu andassi laggiù e ne catturassi uno. Così dopo mi fai leggere la sua descrizione del Pokélex. E imparo come si fa a catturarli. Ah hai capito. Naturalmente ti darò una ricompensa. Vedrai ti farò un bel regalino. Va bene. Quindi ce lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo dare un rockcraft. Prendimento dobbiamo catturare il rockcraft e fare vedere la descrizione del Pokélex a lui. Insegna il giro delle isole. Esporra bene i prati per accedere posti inaspettati. Ok. Sì ma io vorrei tornare a Livi se è possibile. Che dovrebbe essere da questo lato. Giusto? Credo di sì. Percorso uno. Ok. Lili era a sinistra mi sembra. Sì 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 sì. Mi sto ricordando. Io una salvatata la do. Servirbbe anche un centro Pokémon per favore. Se non è chiedere troppo. Vediamo un po' cosa succede ora con la storia. Sono curiosissimo di vederti in azione nelle prossime lotte. Ora che hai superato la prova. Chissà che mosse userete tu e tuoi Pokémon. Ecco. Anch'io che non sono un'allenatrice. Mi rendo conto che hai compiuto una grande impresa. Mag. Ok. Cosmog che si lamenta. Sempre di stare nella borsa. Il Kauna di Melemele. Ala è veramente forte. È abilissimo con i Pokémon di tipo lotta. Quindi faresti bene a usare mosso di tipo volante o psico. So come si batte un capopalestra. Non c'è bisogno che uno lo dici. Eccolo qui. Il capopalestra. C'è capopalestra. Kauna. Non c'è il capopalestra in questo gioco. Andiamo a parlare con Ala. Dovrebbe essere da qualche parte lì. Ma sei scemo, Rotomare? Ce l'abbiamo davanti. Però i Pokémon non ce li abbiamo molto curati. Come si fa? Spero me li cuori lui. Perché altrimenti ne prendiamo. Perché abbiamo... Dobbiamo usare coso? Trambic. Ma l'abbiamo distrutto. Io prova a non curarli. Che cosa succede? Hai superato la prova della grotta sotto Bosco. Congratulazioni. Davvero ben fatto. Allora Zerdast. Tu e il tuo Trambic siete pronti a lottare con me? No. Mi vado a curare e torno. Perché insomma non voglio rischiare. Ci vediamo dopo. Ora possiamo affrontare Ala. Al nostro massimo delle forze diciamo. Abbiamo ottenuto Spiro e Auricorio. Perché non si sa mai. Magari la sfida si mette male. Abbiamo anche loro due. Quindi non li ho depositati come faccio di solito. Andiamo. Allora Zerdast. Tu e il tuo Trambic siete pronti a lottare con me? Certo. Andiamo. Bene. Non vedevo l'ora di mettere alla prova le vostre capacità. Attenzione. Ci siamo. Lascia che mi presenti di nuovo per i coraggiosi giovani che stanno affrontando il giro delle isole. Il mio nome è Ala. Sono il Kauna di Melemele. Che abbia inizio la tua ultima prova Melemele. Ovvero la grande prova. La lotta con il Kauna dell'isola. Ebbene Zerdast. Tu hai ricevuto la pietra lucente da Tabu Koko. Mostrami di cosa siete capaci tu e la tua squadra. Anch'io darò il massimo. Preparatevi ad affrontare il temibile Ala. Dai. Parte la sfida di Ala Kauna. Ala manda in campo Mankey. Mankey. Ok. Questa scimmietta della prima generazione la conosco bene. Tipo lotto ovviamente. Tutti che guardano. Ok. Quindi non possiamo fare brutte figure. Non possiamo fare assolutamente brutte figure. Andiamo di spennata subito. Fuoca l'energia. Quindi aumenta la probabilità di brutti colpi. Sperando che lo secchiamo in un colpo. Yes. È il primo andato. Grande Trambic. Così si fa. One shot. One shot. One shot. One kill. Torraket. Sera libro 19. Torraket. Vorrei imparare Boato. Vediamo un attimo. Graffio Bracero. Codenti leccato. Onestamente Boato. Non me lo prendo. Non mi serve. No. Non farò dimenticare niente. Torraket. Ho imparato Boato. Ce ne farei una ragione per Boato. La prossima scelta di Ala sarà Makuita. Vuoi cambiare Pokémon? No. Grazie. Mi risponderà solo. Ah. Devo fare. Vai. Trambic. Usa spennata. Vai Trambic. Ah no. Makuita usa Marucia Pelo. Oh no. Te interniamo. Vai Trambic. Usa spennata. Oh sì. Makuita è esausto. Non è più energia. Trambic riceve 100. Non è punti esperienza. I punti esperienza vengono condivisi come punti esperienza. Ma se la scelta di Ala sarà Croub Roller. Eccolo qui. Il Croub Roller. Noi proviamo sempre con la nostra spennata. È l'ultimo? Sì. È l'ultimo Pokémon. Andiamo ancora di spennata. Non ci dovrebbero essere grandissimi problemi. Trambic usa spennata. È super efficace ma resiste. Attenzione. Il potere a zeta circonda il Croub Roller nemico con un aura. Il Croub Roller nemico usa una mossa a zeta speggiorando tutta la sua potenza. Iper scarica furiosa. Ah. Oh Gesù salvami tu. Ammazza oh. Che cattiveria. Ah. Ok. Sai che ti dico amico? Lotta? Ah non possiamo farlo perché mi è tipo volante. Non possiamo fare una super mossa quella. Niente. Perché abbiamo il non mi un zeta. Noi volanti un mu zeta come cavolo si chiama. Vabbè andiamo di spennata e dovrebbe morire malissimo. Esatto. Esatto. Abbiamo sconfitto Ala. Grande così. Grande così. A dirvelo senza troppe difficoltà. Però insomma. Per come ce l'avamo presentato. Sembra più forte. Hai sconfitto Ala. Kauna. Oh complimenti. Zerdas ha vinto 2400. Buono. Eccellente. Come direbbe il signor Burns. Riede lui. Giustamente. Già. Proprio come pensavo. Un allenatore di talento con degli ottimi Pokémon. Tapu Koko. Oh. E di nuovo Tapu Koko. Probabilmente non vedo l'ora che tu e i tuoi Pokémon diventiate forti per sfidarvi. Bene. Il cristallo zeta è tuo. Con questo potrai trasmettere la tua forza ai Pokémon. Quindi il... Di tipo lotta. Esatto. Sì sì sì. C'è il punto. Di tipo lotta. Ok. Grande prova completata. Vai così. Ok. E mo'. Ok. Riparto la musichetta. Zerdas ottiene un Luctium Zeta. Zerdas mette il Luctium Zeta nella tasca Cristalli Zeta. Ovviamente. Guarda bene Zerdas. Per usare il potere Zeta di tipo lotta assumi questa posa e muovi le braccia in questo modo. Ah. Quindi. Ok. Con questo è completato tutte le prove della prima isola di Alola. Mele mele. Congratulazioni Zerdas. Il timbro che suggera la tua impresa sancisce che tutti i Pokémon fino al livello 35, compresi quelli ricevuti tramite scambio, seguiranno sempre le tue indicazioni. La luna di giorno o il sole di notte? Non ti fanno venire in mente le cose che esistono? Dai faccio. Non ti fanno venire in mente le cose che esistono anche se non le possiamo vedere? Mentre viaggi per le isole di Alola rifletti su ciò che puoi vedere nei Pokémon e nelle persone e su quello che rimane nascosto. E un giorno riuscirai a incontrare Tapu Koko. Ok. Ce lo ricorderemo vecchio. Hull! Ecco il Taurus. Hull! Oh, Taurus! Sembra che voglia dire qualcosa. Ho un'idea. Metterò il mio Taurus a tua disposizione. Potrei chiamarlo per spostarti più agevolmente sulle isole. Mazza che figata. Sono sicuro che si divertirà ad andare in giro con te. Hull! Zerdast, in questo dispositivo c'è tutto l'occorrente per cavalcare Taurus. Che cacchio è? Ci dà il nulla. Noi prendiamo il nulla. Zerdast diceva il chiamo a passaggio. E adesso provalo. Su, salta in sella. No. Che figo! Possiamo cavalcare Taurus. Allora, come si sta in gruppo al mio Taurus? Com'è la visuale lassù? Ogni volta che faccio ala mi viene maldico. Bene, Zerdast. Ad Allora troverai molti Pokémon pronti ad aiutarti in vari modi. Bene. Ora ti spiego come funziona il chiamo a passaggio. Ti permetterà di chiamare alcuni Pokémon quando avrai bisogno del loro aiuto. Per attivarlo premi il pulsante Y. Per usare la carica Taurus dovrai tenere premuto il pulsante B. Il dispositivo ti doterà anche di una tuta speciale per cavalcare i Pokémon. Quello fa sempre out, fa sempre il deficiente. Taurus ti porterà ovunque vuoi ad Allora. Vedrai, presto non potrai più fare a meno di lui. Grazie al chiamo a passaggio potrai chiamare in tuo aiuto i Pokémon del Poké Passaggio. Ovunque tu sia. Ok. Complimenti Zerdast. È arrivato Liam. Complimenti Zerdast. Non esitare a usare il chiamo a passaggio. L'ho perfezionato io stesso insieme a un mio amico. Ma tu sei riuscito a vincere anche senza ricorrere al potere Zeta. Che dire? Impressionante. Incontriamoci di nuovo per un'altra sfida. Una volta. Buona fortuna con il giro delle isole. Ti auguro un futuro pieno di successi. Ok. Zerdast, ora con l'aiuto di Taurus potrai distruggere facilmente le rocce che si trovano lungo il percorso 1. Bene. Ho anch'io un regalo per te. Cucui questo, eh? Zerdast ottiene la MT54 che contiene Falso Finale. Ok. Falso Finale è una mossa che fa rimanere il nemico con un solo PS. Usala per catturare tantissimi Pokémon e farli conoscere a Rotom. Ma ora perché non fai un salto a casa a trovare la mamma e raccontare della tua lotta? Dopodiché raggiungimi al porto di Aucuoli. Ok. È ora di sistemare la barca. Lilia, puoi venire a darmi una mano? E tutti se ne vanno per i cavoli loro. Scusa Zerdast, potrei chiederti un favore? Strano. Vediamo. Certo. Vorrei aiutare questo piccolino, Nebolino, a tornare a casa. Lui mi ha salvato quando ero in difficoltà. Quindi ora tocca a me fare qualcosa per lui. Però non sono un'allenatrice. Da solo non posso fare molto. Ma se tu mi aiutassi, mi rendo conto che ti sto chiedendo un grosso favore. Però... Va bene, gli aiuterò. Oh, davvero? Grazie, grazie di cuore. Non sapevo davvero come fare. Allora, verremo con te sulla prossima isola. E' contento, giustamente, lui. Ok. Pronto, quando hai finito di parlare con la mamma andiamo al porto. Ok. Direi che questo episodio, che non portavo da circa cinque mesi, insomma, abbastanza, può terminare qui. Dovrebbero comunque... Ne registrerò un bel po' di fila, quindi insomma... Un bel po' no, però... Almeno un po'. Sì, almeno un po'. Non sarà un episodio singolo, quindi non usciranno almeno un po'. Niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio, che registrerò subito dopo questo. Bella!